ciao ragazzi ciao a tutti cupolino a sgancio rapido la moto si spoglia in un attimo diventa un custom oppure una piccola touring comoda per le lunghe percorrenze agile questa è del 2021 ha percorso 42.000 km viene venduta a 15.800 euro garanzia certified HD un anno riconosciuto in tutta Europa e possibilità di finanziamento anche per l'intero importo vi aspetto da queste parti non durerà molto unico proprietario sempre tagliandata da noi a presto Sportglide 107 15.800 euro solo in HD Monza ciao ragazzi